L'appuntamento è intanto per venerdì 11 alle 19 sul nostro canale YouTube che si chiama In Musica School. È un progetto pilota nel quale abbiamo creduto molto e unisce alcune scuole sparse per l'Italia, alcune istituzioni scolastiche, parliamo di Fiuggi, Ceccano, Roma, Frosinone, Napoli e Como e il liceo scientifico musicale di Pesaro e la nostra associazione In Musica. Siamo riusciti attraverso il progetto Ecomusis a lavorare in tempo reale all'interno di stanze virtuali, cosa che per i musicisti è di solito assolutamente impossibile. Abbiamo creato un concerto, l'abbiamo registrato il 21 maggio, su un arrangiamento di nuovo Cinema Paradiso di Morricone fatto dalla nostra associazione In Musica e con la straordinaria partecipazione del maestro Gianni Oddi che si è prestato a provare e a suonare con questi ragazzi. Sono una quarantina di studenti degli istituti e abbiamo provato per un paio di mesi e siamo riusciti proprio a ricreare la condizione delle prove in teatro. Un concerto che verrà trasmesso anche in Piazza del Popolo oltre che sui canali digitali. Sì, ringraziamo moltissimo della possibilità e verrà trasmesso alla stessa ora ovviamente della Premiere YouTube l'undici sera attraverso qui in Piazza del Popolo.